Questo è l'epartita, l'epartite! È un amore e un piacere! Questo è il partito! Faccia a calcio! Con il numero 1, 5, 4! Con il numero 5, Antonio, Pasqua! Con il numero 6, Giuseppe, Giulia, 4! Con il numero 7, Stasio, Chieco! Con il numero 1, Matteo, Giulia, 4! Con il numero 14, Luca, Berti, Gennari! Con il numero 11, Davide, Fabianzi! Con il numero 18, Vecchesco, Neri! Con il numero 19, Vecchesco! Con il numero 21, Damaso, Marti! Con il numero 23, Martino, Martini! In panchina, numero 12, Fucci! Con il numero 24, indicia! Con il numero 8, Cristianoba, Martini! Buongiorni, Agni, Michele Razano! Con il numero 18, Franco! Comliccio di Danilo, Salvo, Martina! Con il numero 16, Giorgio, Sil francina! Comunque 17, Genni, Chiuseppe, Giuseppe, Genni! Buongiorno, Luca, Borrego, Sca hole, Gioio! Buongiorno, Fucci! Buongiorno, Gioge! Buongiorno, 5! Buongiorno, Alberto, Gervo! 2 da 4, adesso, per volta, numero 30, Gassone, Primer. Come partietro? Allora Giovanese, e adesso Gassonero, di promessa grande cosa, il signor Giovanni Soppa! Come ce l'ha? Rega di Vigo. Giovanni Soppa, rega di Vigo. La prima di ogni partita è parte, non sai che, ricordi di me, di questa morte, a mezzo di una domanda, tutti i giorni, andiamo le frontiere, riservi anche i tuoi in forza, nel mio cuore c'è forza, nel mio cuore c'è forza, che non nascerò mai di vozza che non mi mette vozza che il mio cuore c'è vozza che non nascerò mai solo la vozza che non mi mette vozza nel mio cuore c'è vozza che non nascerò mai di vozza nella niente c'è vozza nel mio cuore c'è vozza che non nascerò mai solo la vozza che la cerco di vozza vedi le cesi? i copioni non ce l'ho avviato ooooh non ce l'ho avviato bello ooooh 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 sentalo sentalo si io ooooh 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 Buongiorno a tutti i nostri amici 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 Conte Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti